Presentato il rapporto annuale 2011 della Guardia di Finanza. Il contrasto all'evasione e all'illusione fiscale ha rappresentato la principale attività svolta dalle fiamme gialle, con 170 milioni di euro recuperati dall'evasione sull'imposta dei redditi, 5 milioni sull'IRAP e 25 milioni sull'IVA. Dato sconfortante la mancata emissione di scontrino o ricevuta fiscale, i controlli hanno fatto emergere irregolarità nel 41,5% dei casi, con picchi del 55% durante la stagione estiva e dell'80% nel corso dei grandi eventi. 63 gli evasori totali per un rendimento di 1.225.000 euro circa ciascuno. Sono migliorati gli strumenti che il legislatore ha messo a disposizione dell'istituzione, della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza stessa ha la possibilità di potersi professionalizzare e aumentare la propria capacità conoscitiva e quindi le proprie tecniche. Un insieme, tutta una serie di elementi che portano la Guardia di Finanza a una maggior competitività, ma soprattutto una maggiore efficacia nei confronti solo e soltanto di coloro che non fanno il proprio dovere. I risultati che mi inorgogliscono come responsabile di una provincia sono un po' tutti, li avete visti, non c'erano percentuali negative, c'erano soprattutto percentuali positive. I risultati che mi allarmano sono gli stessi che mi inorgogliscono, perché un aumento dell'accertato in evasione vuol dire che ancora deve essere recepito, deve essere assorbito che il cittadino onesto è il cittadino vincente. Non è il cittadino furbo quello che evade, ma il cittadino onesto deve essere il cittadino sereno, il cittadino che sa che ha pagato quello che deve allo Stato e che quindi può pretendere, può avere dallo Stato in cambio quella tutela che soltanto lo Stato, come previdenza sociale, come welfare, come viabilità delle strade, come tutte quelle emanazioni che lo Stato dà, può garantire. Un altro caso che ha attirato molto l'attenzione dei media è stato quello dei falsi invalidi, a parte il famoso caso della signora in bicicletta, ce ne sono stati altri, come l'andamento nella Zanderra Vennate? Ce ne sono altri, non li abbiamo dischiusi ancora, piano piano quando ci sarà l'autorizzazione dei magistrati ve ne potremo parlare, ce ne sono. Tenete presente che, per fare un esempio, per avere un invalido ci sono delle commissioni mediche e chi dà l'invalidità, chi concede, la commissione che concede l'invalidità, poi dopo ne dovrà rispondere. Quindi, tante volte sono indagini delicate e un pochino più lunghe del normale, però stiamo passando a tappeto più di un soggetto che può destare dubbi e sospetti. Da qualche mese la lotta all'evasione è un po' più sotto i riflettori di prima, questo ha cambiato il vostro modo di agire? No, no, non ha cambiato il nostro modo di agire, ha cambiato il vostro, in qualità di giornalisti. Siamo sicuramente più osservati, più guardati, più scrutati, però questi risultati sarebbero arrivati anche senza, perché poi noi iniziamo a lavorare per il 2011, il primo gennaio, non a ottobre, settembre, quando si è iniziato a sentire una certa stretta. E i risultati come quelli che avete visti non si costruiscono neanche in un anno, si costruiscono in anni di professionalizzazione, in anni di tecniche, in anni di indagine. Molti dei risultati del 2011 magari risalgono ad attività che hanno avuto inizio un anno, due anni, tre anni prima. La polizia, tante volte noi all'interno della nostra struttura, solitamente vediamo la differenza, anche perché siamo quelli che la possono vedere meglio, tra polizia giudiziaria, noi abbiamo anche dei compiti di polizia giudiziaria, come la lotta al traffico di droga, eccetera, e polizia tributaria. La polizia giudiziaria vede l'istituzione come una forza immediata. La polizia tributaria deve essere costruita con l'indagine, con l'accertamento documentale, con lo studio delle carte dell'azienda, del professionista, del commerciante. È diverso proprio l'approccio.